Ultima gara di giornata, sempre in compagnia degli atleti della G6. E come nella batteria precedente, anche qui gli asleti affrontano i primi giri con una certa calma, nelle posizioni di testa Monteclarense, Mazzano e Springedi. Ancora tranquilla l'andatura del gruppo e nelle prime posizioni ora si portano anche i portacolori di Capriano, Soprazzocco, Bornato e Ronco. Finalmente qualcosa si muove in testa del gruppo, sono Springedi e Soprazzocco che provano ad accelerare. E ora un portacolori della Monteclarense a promuovere un attacco, gli rispondono Soprazzocco e Mazzano. In questo momento è la Soprazzocco che in testa al gruppo cerca di fare selezione, lo tallonano Mazzano e Ronco. Cinque giri la conclusione e l'andatura cala nuovamente. Gli atleti sembrano rifiatare, chi promuoverà il prossimo attacco? E come previsto la calma dura poco, è la Capriano con Betteni a provare un nuovo allungo. Dietro Mazzano e Bornato cercano di ricucire lo strappo. Ultimo giro con gruppo compatto, nessuna azione è andata a buon fine e si prospetta un arrivo a ranghi compatti. Splenida volata che decreta vincitore Marezco Jakub della Soprazzocco, seconda posizione per Zanetti Maiko della Bornato che precede il compagno di squadra Castellini Simone. Seguono Abate Simone della Monteclarense e Neboli Matteo della Soprazzocco. E gira, gira il mondo. Mi guardo e non rispondo perché risposta non c'è nelle parole. Sol è bella come una mattina d'acqua cristallina, come una finestra che mi illumina il cuscino. Galda come il pane, ombra sotto un vino, mentre ti allontani stai come forever. Lavoro tutto il giorno, e tutto il giorno penso a te, e quando il pane è il forno va, lo tengo caldo per te. Chiara come una bici, come un lunedì, di vacanza dopo un anno di lavoro. Bella, forte come un fiore. Non c'è nittro.